La pronuncia data provvisoriamente dal Tar non ci convince. Continuiamo a pensare che siano stati lesi i diritti di libertà e faremo ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Non si rassegna la CGL alla decisione del Tar di Catania di rigettare il ricorso contro l'ordinanza emanata dal prefetto di Siracusa, con la quale si vietano assembramenti nella zona industriale fino al prossimo 30 settembre, e lo fa con una nota dai toni perentori e soprattutto ricorrendo al CGA. Come si può palesemente notare, si legge nel documento a firma del segretario generale Roberto Alosi, l'ordinanza del prefetto non è dettata da motivi di ordine pubblico o da particolari esigenze produttive. Piuttosto, quell'ordinanza nasce in virtù di pressioni politiche che calpestano i principi più elementari del diritto di sciopero, della libertà di riunione e dei principi costituzionali. Ci sono inoltre aspetti di natura giuridica che lasciano assai perplessi, come ad esempio il fatto che le attività produttive in questione non sono e non possono essere riconducibili alla natura di servizio pubblico, che come noto viene regolamentato da particolari e specifiche norme, anch'esse tuttavia garantiste del diritto inalienabile della libertà sindacale e dello sciopero.